Stop all'arcol portato da casa. Questa è l'ordinanza anti-bottiglion. Per la prima volta all'Aquila ci sarà il divieto di bivacco. Intensificheremo i controlli per evitare che i giovani si riforniscano di cibi e bevande nei supermercati e li consumino in pieno centro storico a danno delle attività commerciali. Lo ha detto nel corso di un incontro con la stampa l'assessore comunale Alessandro Piccinini, annunciando la svolta contro il fenomeno del bottiglion, che negli ultimi anni ha preso sempre più piede tra le ire dei gestori dei locali. Il problema c'è ed è evidente. Noi pensavamo in qualche modo di coinvolgere anche altri soggetti, avendo come interlocuzione la prefettura. L'idea è quella di creare una piccola task force che possa in qualche maniera esercitare un controllo. Io credo che la strada migliore sia sempre quella della prevenzione e seguendo un po' l'esempio di quelle che sono le città più grandi e più abituate al controllo del territorio, mi sembra che una delle misure più efficaci sia quella di avere un deterrente, quindi la possibilità semmai di avere un presidio magari nel punto nodale, insomma dove si svolge la movilità, l'attività notturna dei locali. Anche questo periodo di caldo invoglia anche le persone, non necessariamente gli amanti della notte, ma tutti a stare più fuori. Questo non significa ovviamente che ognuno può pensare di comportarsi come crede. Vanno messe delle regole, vanno concordate, ma una volta messe tutti devono rispettarle, i gestori dei locali, i ragazzi, i cittadini e tutti quanti. Per cui mi auguro possa esserci collaborazione. Da una parte le difficoltà vengono, ma sono notorie, sulle difficoltà di poter garantire la sorveglianza notturna, quindi le risorse finanziarie sia da parte dell'ente ma anche da parte delle forze di polizia, ma si dovrà fare uno sforzo in più per garantire maggior controllo sul territorio. Le sole forze dei vigili urbani non saranno sufficienti. Per questo motivo il sindaco Pierluigi Biondi convocherà nei prossimi giorni un tavolo perché le forze dell'ordine affianchino nei giorni della perdonanza celestiniana i vigili urbani.